La decisione principale è naturalmente la conferma per un secondo mandato di Donald Tusk alla presidenza del Consiglio europeo sulla quale si è registrata l'unanimità ma l'opposizione della Polonia e l'opposizione della Polonia che poi ha portato a un'opposizione generale del primo ministro polacco alle diverse conclusioni previste oggi all'ordine del giorno. Io rispetto la discussione interna alla Polonia che è all'origine di questa presa di posizione però non credo che questa discussione interna con tutto il rispetto possa essere un elemento di blocco per l'Unione europea quando c'è una posizione così largamente condivisa da tutti gli altri 27 paesi europei. Quindi credo l'Italia è convinta che sia stato giusto procedere nonostante queste obiezioni del primo ministro polacco. Mi auguro che questa situazione si risolva nel migliore dei modi nelle prossime settimane. Daremo anche il nostro contributo noi italiani a che questa situazione non si consolidi negativamente. Per il resto ho trovato utile la discussione che abbiamo avuto sul tema dell'immigrazione che è un po' il seguito della discussione fatta a Malta un mese fa. È importante per noi che il ruolo dell'Italia sia considerato in modo sempre più evidente come un ruolo di leadership per quanto riguarda tutte le questioni relative alla rotta del Mediterraneo centrale. Naturalmente è una responsabilità, non è solo il riconoscimento di un ruolo perché significa scommettere sul fatto che le intese che stiamo cercando di far funzionare con la Libia, con il Niger, con altri paesi africani, alcuni dei quali come sapete si vedranno assieme a ministri europei a Roma tra qualche giorno queste intese funzioni. Se quelle intese funzioneranno si riuscirà a fare anche sulla rotta del Mediterraneo centrale il passo nella direzione che bisogna fare che come è noto non è quello di illudere gli italiani su una improvvisa estinzione del fenomeno migratorio ma è quello di renderlo più gestibile, più regolare, meno in mano ai trafficanti di esseri umani e quindi anche meno fonte di tensioni sul piano interno, sul piano sociale. Abbiamo avuto infine una, giusto per completare la sintesi, abbiamo avuto infine una relazione del Presidente della Banca Centrale Europea sulla condizione dell'economia europea in cui sostanzialmente Draghi ha ripreso alcuni dati sull'andamento dell'economia europea, dei tassi di crescita, dell'inflazione che giustificano a suo avviso delle valutazioni positive ma contemporaneamente anche la necessità di proseguire nelle politiche di cosiddette di quantitative easing, di sostegno, nelle politiche monetarie seguite fin qui dalla Banca Centrale Europea. E su questo c'è stata una discussione perché naturalmente questo vale anche per l'Italia, il fatto che ci siano dei dati macroeconomici positivi, incoraggianti e ci sono anche nel nostro Paese non significa che questo immediatamente poi si traduca in conseguenze sul piano sociale, sul piano della percezione dei nostri concittadini. Quindi da sempre fare attenzione a non accontentarsi dei dati macroeconomici anche quando i dati macroeconomici come avviene in questo momento in Europa sono piuttosto incoraggianti. L'Europa oggi ha una crescita in quanto Unione Europea leggermente superiore a quella degli Stati Uniti. Un ultimo aspetto che mi pare interessante è che c'è una grande attenzione al ruolo che l'Unione Europea può svolgere dal punto di vista degli accordi commerciali internazionali. Si è voluto sottolineare che questo va anche in direzione di alcune aree del mondo, penso all'America Latina, sia Mercosur con cui siamo in cerca di concludere un accordo, sia Messico con cui l'Unione Europea ha un accordo che può essere sviluppato perché naturalmente in un mondo nel quale si parla molto di chiusure dal punto di vista delle relazioni commerciali, l'Unione Europea che è la più grande potenza commerciale del mondo può avere obiettivamente un ruolo e uno spazio anche in aree nelle quali magari è stata finora relativamente meno presente. Come sapete domani si discute prevalentemente in un formato diverso, cioè a 27, di una discussione preliminare sulla dichiarazione di Roma, i contenuti della dichiarazione di Roma, è un tema che a noi interessa particolarmente. Ecco, a questo proposito ci sono segnali formali o informali che l'irritazione polacca possa limitarsi a queste ore oppure si può immaginare qualcosa di diverso? Ma questo lo scopriremo vivendo, ma penso che non ci sia nessuna ragione per trasferire su un'occasione che è un'occasione di celebrazione e da un lato e di prospettiva per i prossimi dieci anni dell'Unione Europea una divergenza assolutamente rispettabile ma molto nazionale e devo dire anche molto contingente. Quindi ripeto parole di rispetto, però non vedo cosa centri questo con i 60 anni dell'Unione Europea e i prossimi dieci anni dell'Unione Europea. Detto questo, certamente la discussione domani sarà interessante e mi auguro che nella regia che cercheremo di dare insieme a Muscat, Tusk e Juncker escano degli indirizzi per poi stilare una bozza definitiva di dichiarazione che abbia una sua realtà, un suo peso. Non è un lavoro facile, però penso che sarà anche interessante. Grazie. Per valere del metodo intergovernativo anziché quello comunitario, è stato fatto amattare che conciliare una nuova e più velocità con una struttura istituzionale concepita per 28 poi 27 potrebbe comportare dei problemi. No, ma non c'è dubbio che è tutto un campo da esplorare nelle conseguenze istituzionali. Non a caso il libro bianco della Commissione Europea delinea addirittura cinque scenari diversi e siamo soltanto all'inizio. Io voglio che sia molto chiaro che anche la dichiarazione di Roma non è che si occupa di questo come punto centrale. Però una cosa mi sembra sia evidente, sia evidente anche dai lavori che si sono svolti oggi, ma è evidente da molto tempo nell'Unione Europea e cioè che noi non possiamo stare fermi di fronte alle sfide, ai compiti che l'Unione Europea ha e se l'Unione Europea si muove non può muoversi con la velocità del vagone più lento. Quindi chi ha una minore disponibilità a politiche di integrazione va assolutamente tenuto a bordo, rispettato, deve continuare a essere membro a pieno titolo dell'Unione Europea, ma questo non può impedire a paesi che vogliono scegliere un passo più veloce di poterlo fare. E quello che abbiamo fatto addirittura sulla moneta, l'abbiamo fatto su Schengen, dobbiamo farlo nella risposta alle sfide che avremo nei prossimi anni, perché se siamo invece vincolati all'idea che si può avere maggiore integrazione alla grande e a 27, il rischio è che lo scriviamo in qualche documento ma non facciamo passi avanti. Però certamente questo comporterà sfide sul piano istituzionale, architetture e non sono cose che risolviamo con la dichiarazione di Roma, ma forse neanche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. L'importante è che si accetti l'idea che questo non è un modo per scegliere paesi rispetto ad altri, ma è un modo per consentire a chi vuole fare più rapidamente e convintamente un percorso europeista di farlo. Del resto i trattati di Lisbona già lo consentono. Grazie.